Musica Ci troviamo nel chiostro monumentale San Francesco d'Assisi, sede della sede Vescovile di Caltagirone in compagnia di Sua Eccellenza il Vesco, il padrono di casa Calogero Peri, grazie per averci dato il nostro invito e del Presidente del Comitato di Festeggiamento del Bicentenario Don Antonio Parisi. Siamo qui perché siamo alla vigilia forse dell'accadimento più importante, anche se le celebrazioni si chiuderanno il prossimo 11 gennaio e ricordo alla memoria sono stati aperti il 21 novembre col Cardinale Bagnasco, Presidente della CEI che è venuto ad inaugurare il festeggiamento di questo Bicentenario. Dicevo siamo alla vigilia dell'accadimento forse più importante di queste celebrazioni che si celebrerà precisamente il giorno 11. Questo propedeuticamente ha tutto un lavoro di preparazione a cominciare da giovedì prossimo, credo che sia dall'8 settembre prossimo. Intanto Eccellenza, come stiamo? Buona giornata a tutti e finalmente ci siamo a questo evento, come è stato detto, importante e centrale perché siamo esattamente nella data in cui ricordiamo il 12 settembre 2016, i 200 anni, quindi il Bicentenario. Noi però vi ha ragione perché la domenica è giorno 11 per permettere, come sapete, alle famiglie di convenire qui a Caltagirone celebreremo questa solenne concelebrazione giorno 11 nel nostro giardino comunale alle ore 17. Allora, padre Antonio Parisi, vediamo un pochettino i dettagli organizzativi, le manifestazioni che sono state previste e come la cittadinanza, come i fedeli della diocesi, ma in questo caso non soltanto della diocesi ma di tutte le famiglie della regione siciliana, converranno su Caltagirone al seguito dei propri pastori, dei propri vescovi. Sì, cominciamo intanto dal triduo di preparazione che sarà nei giorni 8, 9 e 10 settembre, giovedì, venerdì e sabato. Abbiamo invitato i tre vescovi che hanno un legame particolare con la nostra diocesi. L'otto celebrerà in cattedrale al 18.30 Monsignor Vittorio Mondello, che è stato il tredicesimo vescovo di Caltagirone, il 9 Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, che è vescovo originario della nostra diocesi e infine il 10, questa volta però alle 20, per consentire anche a tutti di poter partecipare, essendo anche un sabato sera e quindi dando anche la possibilità della celebrazione nelle parrocchie, alle 20 in cattedrale celebrerà il 14esimo vescovo di Caltagirone, Monsignor Vincenzo Manzella e in quel giorno ricorderemo anche il venticinquesimo della sua consacrazione episcopale che avvenne il 29 giugno 1991. Quindi domenica, giorno 11, ci sarà l'accoglienza delle famiglie provenienti da tutta la regione, dalle varie diocesi, già dalla mattina. Ogni parrocchia è stata gemellata con una diocesi e con un comune della nostra diocesi, per predisporre una adeguata accoglienza. In ogni parrocchia, poi a partire dalle 10.30, ci sarà un momento di riflessione di catechesi guidato da uno dei vescovi della nostra regione ecclesiastica. Quindi, consumato il pranzo, nelle varie parrocchie, nel pomeriggio si converrà tutti al piazzale del Giardino Pubblico, intorno alle 15.15.30, per dare inizio poi alla grande festa, che sarà così articolata. Un primo momento di accoglienza, poi un momento di testimonianza. testimonianza. Ci sarà la nota Beatrice Fazzi, che tutti conoscono per via della fiction il medico in famiglia. Poi ci sarà ancora una volta l'assendart di Stefania Bruno. E poi, alle 17.00 circa, come diceva il Vescovo, ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica, che sarà presieduta dal cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Finita la celebrazione della Messa, poi il musical Madre Teresa, a una settimana esatta dalla canonizzazione. Parliamo del musical originale di Michele Paolicelli. Poi ci si porterà sempre alla Villa Comunale. Poi dalla Villa ci si trasferirà in piazza Municipio, dove ci sarà una illuminazione straordinaria della scala Santa Maria del Monte. Noi a Caltagirone siamo soliti celebrare gli eventi più significativi, più importanti, e questo certamente è un evento storico per noi, con l'illuminazione straordinaria della scala Santa Maria del Monte. Penso, per esempio, all'illuminazione che avvenne la notte del passaggio tra il secondo e il terzo millennio. è una scala che è stata offerta ancora una volta da Enzo Ripullo, che ringraziamo, è una scala che vedrà come immagine il nostro logo del bicentenario con lo stema Vescovile e il buon pastore di Rupnik, il cui originale si trova nella chiesa della Madonna della Via. La scala opera ancora una volta di Antonio Navanzino, una rielaborazione, però è un originale. Lunedì 12, e poi è il giorno storico del bicentenario, ci sarà la concelebrazione eucaristica che opportunamente sarà presieduta dal nostro Vescovo, che è il pastore della nostra chiesa diocesana, con la partecipazione di tutti i Vescovi di Sicilia. Alle 19.30 nella chiesa cattedrale la processione d'ingresso muoverà dalla chiesa di Sant'Agata. Eccellenza, grande celebrazione che la vedono protagonista, essendo il Vescovo e il protempore di questa nostra diocesi che in questo momento sta celebrando 200 anni di esistenza, diciamo. 200 anni nella millenaria storia della chiesa sono una cosa piccola, però anche questi vanno celebrati, anche questi vanno segnati ed è un segno importante, diciamo, della nostra storia, del nostro percorso. 200 anni sicuramente per noi sono un giubileo importante, perché per una diocesi, ecco, 200 anni significa che ha fatto un bel tratto di cammino. E poi è bello anche perché, come sappiamo, questo nostro giubileo si inserisce nel giubileo straordinario della misericordia, quindi, diciamo, è un doppio scrigno che contiene veramente momenti importanti di vita ecclesiale. Io mi auguro che per la nostra chiesa questo non sia semplicemente un appuntamento esteriore, cioè che sia semplicemente una ricorrenza, una data, ma sia per davvero, come abbiamo tentato di fare, preparandoci a questo evento, un momento in cui facciamo una revisione di vita di quello che siamo stati, un'analisi sincera, spassionata anche di quello che viviamo, delle difficoltà, delle potenzialità, dei limiti, potremmo dire con termine teologico, dei peccati e della grazia che contraddistinguono questa nostra chiesa diocesana, ma nello stesso tempo non vogliamo semplicemente voltarci indietro o fermarci al presente, vogliamo anche guardare in avanti, proiettarci e tentare per quanto è possibile che l'esperienza tutta, sia delle cose che sono state positive, ma anche l'insegnamento positivo, ugualmente delle cose negative, che sicuramente in 200 anni, e noi soprattutto, ci sono state e ci sono, ci possa vedere protagonisti per un prossimo futuro. Quindi, ma sarà anche l'occasione in cui la nostra chiesa vivrà in maniera concreta il suo appartenere a una chiesa cattolica, una chiesa più ampia, più grande, e innanzitutto, con la presenza di diversi pastori, ma anche delle famiglie delle altre diocesi siciliane, sarà un momento in cui ci renderemo conto che nella chiesa ciò che si vive, si celebra, non è mai soltanto personale, singolare, ma è sempre comune, pubblico, e quindi questa è un'occasione molto bella in cui questo, senza bisogno di molte parole, sarà testimoniato soprattutto con la centralità della presenza delle famiglie, e dunque della famiglia che, come diciamo, è soggetto di vita ecclesiale, soggetto di pastorale, soggetto di fede, soggetto di cultura e di esperienza. Quindi ritengo per davvero che abbiamo tutti, per grazia di Dio, un'occasione in cui potremo veramente sperimentare che cosa significa essere chiesa, essere comunità ed essere tutti insieme. TVR Xeno, televisione ufficiale di questo bicentenario, seguirà opportunamente l'evolversi di questo importante appuntamento. Lo faremo giovedì, venerdì e sabato, assieme a Enzo Nicoletti, a Mario Amore e Massimo Porta, per cercare di raccontare questi 200 anni di storia che sono contrassegnati dall'attività dei 15 protagonisti di questi 200 anni. Sto parlando dei 15 vescovi che si sono succeduti da Maria Trigona Parisi, Parisi Trigona del 1800, Gaetano, Maria Trigona Parisi. Va bene, e fu il primo vescovo di Caltagirone, veniva da Piazza Armerina e poi fu spostato, come si dice, traslato? Promosso. Cardinale a Palermo, dove è sepolto. Per arrivare appunto al quindicesimo Calogiro Peri e racconteremo in questi tre giorni con gli amici della redazione la storia della diocesi della nostra città, della nostra diocesi, dei nostri 15 comuni, attraverso documenti, alcuni video e delle curiosità che indubbiamente possono gustare, capire l'interesse dei più. Io credo che questa è una storia forse conosciuta a pochi, ma affascinante come non mai, perché è quella che ha segnato questa comunità. Sono tante le cose. Noi le viviamo con quotidianità. Anche in cattedrale alcuni paramenti, alcuni arazzi, alcune costruzioni. Tutto questo che noi vediamo e lo vediamo come normalità giornalmente, li viviamo nelle celebrazioni ufficiali, a volte sono i segni della storia che ci portiamo appresso con tutta la propria intensità. Parlo a tutte le donazioni che i Vescovi hanno fatto alla Chiesa Cattedrale, paramenti, oggetti sacri e quant'altro. Allora, questi tre giorni, assieme agli amici della redazione, vogliono essere un modo come scoprire questo scrigno d'arte, questo scrigno che appartiene alla comunità, quella materiale, diciamo, di questa diocesi e questo sarà propedeuto. Dopodiché seguiremo in diretta la Villa Comunale dalle 17, per dare la possibilità a tutti, anziani, ammalati e quant'altro. In diretta seguiremo la concelebrazione di tutti i Vescovi di Sicilia, con tutte le famiglie per questo raduno regionale delle famiglie e poi del reportage che faremo appunto per l'illuminazione della scala e di altri accadimenti importanti. Ovviamente in tutto questo, con l'aiuto di Sua Eccellenza il Vescovo Galogero Peri e del Presidente del Comitato Don Antonio Parisi, cercheremo di sentire le voci più autorevoli di tutti i Vescovi che interverranno e anche dei tre cardinali che daranno più lustro a tutta questa celebrazione. Qui mi fermo per lo sforzo di TQR Casseno. Di altro lascio il microfono per chiudere a voi. TQR Casseno che noi ringraziamo anche per questo sforzo organizzativo notevole. Voglio ricordare anche che domenica prossima ci sarà ovviamente la possibilità di partecipare alla messa nelle varie parrocchie prima delle 10. So che molte parrocchie stanno celebrando almeno una messa prima delle 10 perché poi sono impegnate nell'accoglienza delle famiglie. Ci sarà poi un'ulteriore possibilità in città al collegio a mezzogiorno e poi le celebrazioni delle messe sono sospese per convogliare tutti i fedeli anche nella grande messa solenne delle 17 nel piazzale del Giardino Pubblico. Eccellenza, lei il finale per ribadire praticamente che questo non è aperto soltanto alle famiglie che vengono dall'esterno ma principalmente a quelle della città di Caltagione e della diocesi quindi dei 15 comuni. Vorrei ricordare che essendo aperto alle famiglie di fatto è aperto a tutti perché tutti siamo dentro una famiglia ed esprimiamo dentro la famiglia la nostra vera realtà e collocazione. E poi volevo ricordare che 200 anni si raccontano come è stato appunto detto in tanti modi. Ci sono innanzitutto le persone che si sono succedute, ci sono i luoghi e c'è soprattutto il tempo che noi cristiani sappiamo essere comunque vada un tempo di salvezza, di riscatto e dunque un tempo positivo. Ecco perché l'invito è veramente noi ci vogliamo essere perché questo è un appuntamento importante come uomini e come cristiani di questa nostra Chiesa.